Non cambia nulla, quindi state con noi, salutiamo tante persone, Cinzia, Pier Giorgio, Giulia, Filippo, l'amico di Piero di Prato e poi c'è tanti altri che adesso non lo dimentichiamo. Questa è il souvenir, la nostra sigla di testa e cruda di questo programma, che vi accompagnerà per un bel pezzone di estate. Ragazzi, ci vediamo giovedì, divertitevi, staziate felici, andate a cucinare, soprattutto mangiate. Big adesso andrà a comprare il pane, quindi se vedrete è a girare un tipo strano in pantaloncini così, è Big. Va bene, allora, vogliamo andare a salutare di là o di qua? Andiamo a salutare. Di là di qua? Ok. Di qua salutiamo, a giovedì! Ciao ragazzi, adesso ci saluto video. Ciao ragazzi, sono i miei sui miei. Ciao ragazzi, sono i miei suoi 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 miei su Grazie. Grazie. Grazie.